Aeroporti di Puglia accanto alle squadre pugliesi dei campionati di calcio di Serie A e Serie B. E' stato sottoscritto un protocollo di partnership con i club del Bari e del Lecce finalizzato allo scambio di servizi aeroportuali e prestazioni commerciali. Nel dettaglio l'accordo prevede l'erogazione di servizi aeroportuali per i club in occasione delle trasferte. Ampia soddisfazione è stata espressa dal presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile. Aeroporti di Puglia è veramente emozionata nel sottoscrivere questo accordo. Sosteniamo i valori dello sport, sosteniamo le nostre province con un occhio al business perché chiaramente le nostre squadre che giocano i campionati ai massimi livelli portano anche le squadre che vengono a giocare contro di loro. Ovviamente si muovono per via aerea utilizzando sia l'aeroporto di Bari che l'aeroporto del Salento. Devo dire che quando si parla di indotto dello sport si fa riferimento esattamente a questo. Abbiamo proposto lo stesso accordo sia al Foggia Calcio, sia al Taranto Calcio sperando e augurando che al più presto possano anche loro giocare ai massimi livelli e anche all'Epicasa Brindisi, quindi a tutte le società sportive professionistiche. Devo dire che è una richiesta che è venuta dal basso, quindi dalle persone che ogni giorno lavorano all'interno della nostra azienda, è un'azienda pubblica e ci fa molto 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 piacere sostenere questo tipo di attività.